Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di trabimeto.com all'appuntamento con gli aggiornamenti sul meteo per la Pasqua. Purtroppo anche ad oggi sembra proprio che verremo interessati dal passaggio di un veloce fronte freddo in discesa dal nord Europa verso il Mediterraneo centrale. Questo passaggio verrà in tre fasi, lo vediamo anche dalla cartina. Il fronte freddo raggiungerà il nord nella giornata di sabato, quindi producendo un primo peggioramento con piogge rovesci e soprattutto nella seconda parte della giornata. Ancora invece discreto al centro-sud, sebbene il tempo inizierà a peggiorare anche sulle regioni centrali. Il giorno della Pasqua invece il fronte freddo dovrebbe posizionarsi grossomodo sulle regioni centrali, dove quindi avremo tempo molto instabile, con graduale peggioramento anche sulle regioni meridionali, mentre al nord il tempo inizierà lentamente a migliorare a partire dal settore alpino. Il giorno invece della Pasquetta infine vedete il fronte freddo sarà ormai quasi sulla Grecia, quindi tempo ancora un pochino incerto sulle regioni meridionali, decisamente meglio invece al centro-nord. Il passaggio instabile sarà appunto accompagnato da un deciso calo delle temperature, lo vediamo nella grafica successiva, vedete fino a 8-10 gradi in meno al centro-nord rispetto ai valori che stiamo registrando in questi giorni e vedete che l'amitezza progressivamente se ne andrà via. Una situazione comunque ancora estremamente delicata e soggetta ad ulteriori cambiamenti, quindi stiamo ancora parlando di una ipotesi di tendenza e quindi non di una previsione certa. Seguite pertanto tutti gli aggiornamenti sul nuovo sito trebimeteo.com